Musica Quest'oggi ci stiamo trovando in uno dei posti più caratteristici di Vereggio famosi e storici come il vecchio molo di Vereggio siamo qui di fronte a uno dei locali veramente più famosi e tipici esattamente davanti al piccolo Tito come potete vedere il posto è veramente meraviglioso, caratteristico qui siamo veramente vicinissimo, vicinissimo al mare abbiamo il famoso canale Burlamacca alle spalle e come potete vedere in questo benissimo ristorante possiamo pranzare o cenare sia all'interno che all'esterno Musica Musica Io sto aspettando altre barchette che stanno per essere ormeggiate qui come vedete alle mie spalle ogni giorno alle 14.30 circa c'è il mercatino del pesce fresco, sono praticamente tutti i pescherecci che hanno lavorato durante la notte e che nel primo pomeriggio vengono a sbarcare appunto qui sul molo dove appunto tutto il pubblico le persone passano e chiaramente dopo aver servito i migliori ristoranti come il nostro piccolo Tito che abbiamo qui davanti al molo